Erano le 7.50 di sabato mattina quando il killer che aveva programmato la strage contro le ragazze che stavano per raggiungere l'istituto di moda Francesca Morvillo Falcone le vede scendere dal pullman in arrivo da mesagne e camminare verso la bomba. Le vede saltare in aria, poi si volta e se ne va. Un uomo di cui esiste un identikit e della cui esistenza si sarebbe appreso in un video. Un uomo che ha ucciso Melissa Bassi di soli 16 anni, per tutti la figlia della legalità, è ferito in modo grave altre 5 coetanee. Un video che gli investigatori si sono andati a prendere, definito dal procuratore di Brindisi Marco di Napoli significativo, che aiuterà le indagini ad inquadrare un gesto che non ha ancora un movente ma che è stato ripreso da una telecamera ignorata dall'omicida, posta su un chiosco a circa 20 metri dalla scuola. C'è anche la testimonianza di una donna che avrebbe visto un uomo spostare i cassonetti verso la scuola in piena notte, ma la stessa non lo avrebbe riconosciuto nel video. Le immagini all'attenzione delle indagini, comunque, si riferiscono al periodo trascorso dall'attivazione dell'ordigno con un comando a distanza all'esplosione. Un minuto in cui si vede un uomo adulto bianco di cui si conosce l'identità di 55 anni della provincia di Brindisi. Nel video che lo incastra è vestito con una giocca scura, pantaloni chiari e scarpe da ginnastica. Fermo ad aspettare, già prima delle 7.40, il momento giusto per far esplodere le bombole di GPL. È appoggiato al muro, armeggia col telecomando che attiverà l'ordigno dall'altra parte della strada. L'uomo è ricercato ormai da più di 24 ore, mentre secondo il quotidiano Brindisino senza colonne, un'altra persona sarebbe sotto interrogatorio in questura. Si tratterebbe di un 63enne che viaggia spesso tra India ed est europeo e che tempo fa, sempre secondo senza colonne, aveva aperto un'agenzia specializzata in scambi culturali e commerciali con l'Albania. Al momento però non ci sono indagati. Il procuratore di Napoli, nella conferenza stampa di ieri, ha spiegato che il telecomando ha attivato l'ordigno attraverso un congegno volumetrico, un sensore come quelli dei cancelli elettronici che si innesca al passaggio delle persone. L'uomo sapeva bene che attivando il meccanismo volumetrico la prima persona che sarebbe passata dinanzi al cassonetto avrebbe fatto scoppiare la bomba, ha spiegato ai giornalisti di Napoli. La sua volontà era quella di seminare terrore. Nelle immagini registrate mosse dopo il botto si vedrebbe perfino un frammento di bombola che passa vicino all'omicida e quasi lo colpisce. Per la procura di Brindisi la volontà stragista e non per forza eversiva appare chiara così come l'ipotesi di un attentato individuale che poco avrebbe a che fare con la criminalità organizzata locale o con la pista anarco-insurrezionalista. Un movente oscuro dunque, ma che tipo di movente? Privato? Professionale? Ideologico? È possibile che aver pubblicato questo video abbia danneggiato le indagini, ha detto invece il procuratore della DDA di Lecce, Cataldo Motta, ma è una mia valutazione personale. Il fatto che sia stata una persona a compiere l'atto finale, ha detto Motta, che ha confermato la sintonia sulle indagini con la procura di Brindisi, non esclude che dietro ci possa essere una struttura organizzata e neppure la matrice mafiosa. A mio avviso è difficile che quest'uomo possa aver realizzato un attentato del genere da solo, ma è prematuro dirlo.